Benvenuto a Antonella Boralevi, benvenuto a Klaus Davies, benvenuto a Mauro Festa, responsabile del partito gay LGBT, benvenuto collegato da Mosca a un concorrente del reality, Vladimir Vodresto, benvenuto a Francesco Pugnovo e benvenuto a Mario Dinolfi, io parto proprio da Mario Dio di molti, questo reality di cui stiamo parlando noi siamo stati credo, anzi non credo, siamo stati i primi a parlarne, infatti molti, ma dove l'avete scovato eccetera, basta andare un po' in giro, non è difficile, comunque noi l'abbiamo mostrato perché insomma è una qualcosa di rilevante, non è una cosa uscita da niente, allora questo Mario secondo te è qualcosa, non è qualcosa che in qualche modo può minacciare la libertà di qualcuno e può anche, diciamo, offendere i gay stessi, cioè giocarli a sfavore. Abbiamo una bella occasione oggi per parlarne, intanto grazie di questo. Prego. E approfondiamo un po', perché lo dobbiamo guardare, è bello avere un protagonista anche, Mario Dinolfi del Popolo della Famiglia, lo dico, visto che c'è il partito gay, fatemi dire che il Popolo della Famiglia è qui presente con me, che considero questa esperienza del programma, io ho dichiarato che vorrei comprarne i diritti, vorrei condurlo qui in Italia, per togliere veleno alla questione del conflitto etero-gay. Quante puntate abbiamo fatto Paolo anche in questo studio, accapigliandoci. La chiave russa è attenti, soprattutto in questo momento in cui in Italia soffia un'aria un po' russofoba, secondo cui tutto quello che fanno i russi è male e sbagliato. La chiave russa invece proviene da una cultura molto profonda che gioca sulla chiave del grottesco. La chiave del grottesco è una chiave storica della cultura russa. Gogol era il più grande autore del grottesco che ci sia stato nell'alteratura del Novecento. Fantozzi veniva premiato in Russia perché era un imitatore dello schema di Gogol che rendeva grottesca la condizione del vivere dell'impiegato italiano, del dolore di quella condizione. Bene, in quella situazione, nel conflitto che c'è, perché la Russia è una società dove sappiamo che esiste una legge contro la propaganda omosessuale, si mette in scena uno schema in cui gli etero sono palesemente ridicoli. Hai fatto già vedere le immagini. Quello che c'è con i Mitra, che entra in scena nella sigla con i Mitra, quello è un deputato, è un politico omofobo, che viene definito omofobo. Ma entrerebbe mai, Adinolfi viene più o meno definito così in Italia, no? È l'omofobo italiano. Entrerei mai in una sigla televisiva con gli AK-47? Che serve a rendere grottesco l'elemento, serve evidentemente a disinnescare la dinamica violenta che c'è, perché se io metto un AK-47 o sto andando a caccia per sparare veramente al gay. Quindi sarebbe un modo per difendere i gay. Esattamente, dentro la cultura dello sdoganamento di un conflonto che è anche conflittuale, perché è conflittuale in quel reality. Ma c'è la legge antimanifestazioni. Però è vero che se ci fosse questo non farebbero un programma in cui il gay è centrale. Hai visto il passaggio che hai mandato in onda? Guardate che il gay può vincere, il gay può essere vincitore in questa battaglia. Quello schema, a mio avviso, è di estremo interesse. E io lo farei volentieri vivere qui in Italia. Sarebbe una cosa del tutto nuova rispetto al solito piagnisteo della lobby LGBT. Bellissime queste tre affermazioni. Io non ho con un lobo, il piagnisteo. Posso? Faccio fatica a capire cosa c'entri Google con un programma fascista che incita la violenza in cui il gay deve essere malmenato, deve essere aizzato in un paese in cui esiste una legge palesemente razzista e omofoba che impedisce alle persone di manifestare. Klaus, andiamo oltre questo schema dei russi cattivi. Non è uno schema. Non è Rocky con il russo che dice dispiezzo in due. Dai, questo film è finito. Il programma in cui l'animatore principale, ti informo, Milonov, ha detto che gli omosessuali e i transessuali vanno sterilizzati e caserati. Io penso che ci si debba vergognare anche di partecipare a un programma del genere. Perché la gente viene perseguitata, viene discriminata, gli viene tolto il lavoro e questi sono gli effetti di questo programma. Ma cosa ci trovi di auspicabile nell'aizzare atti violenti? Fai un percorso di ragionamento. Guarda che i nostri nonni si sono impegnati e sono morti per tutelare i nostri diretti. Niente retorica. Oggi facciamo finta di essere persone pensando. Vado da Platine, vado da Platine, collegato da Platine. Ma la tesi di Adinolfi che è fatta per normalizzare o quasi insomma rendere grottesco il... No, intanto lui ha detto che c'è questa dualità etero-gay. Io vorrei dire che la dualità semmai c'è tra gay e omofobi e quindi il problema con gli eterosessuali, cioè la maggior parte i miei amici sono eterosessuali e non hanno alcun problema con l'omosessualità. Probabilmente chi ha problemi con l'omosessualità ha più problemi con la propria omosessualità che non con quella degli altri. Io vorrei fare un esperimento per demistificare la propaganda e l'arrampicamento sugli specchi, se vogliamo usare un termine un po' meno colto, che ha appena fatto... Ma perché fai sempre così? Per cortesia, questo signore... Perché offendi sempre? Paolo, per cortesia. Apri bocca per cortesia. Perché? Lei è una persona che non rispetta gli altri. Hai appena iniziato, parla di le cose tue senza guardare agli altri a offendere. Io sto confutando, lo fai tacere per cortesia, ma è possibile che lei parli... Ogni volta, dopo 30 secondi, insulti gli altri. Impara a parlare senza insultare gli altri. Di le tue opinioni e non occuparti di me. Ora basta lei, Paolo, diglielo tu per cortesia, perché io non riesco a parlare. E non parlare di me. Se vuoi, non parlare mai più di me. Io sto confutando una tesi. Parla delle tue cose. Io sto confutando una tesi che qui è stata espressa e che ha quindi un nome e un cognome. Se tu sei nato a Lucca, mettiti un distintivo con scritto sopra Io sono di Lucca. Il terzo reality sarebbe, tu sei nato a Lucca, adesso non cammini sul marciapiede, ma cammini nello scolo. Scusate, posso provare un attimo? Lei è veramente una persona che incarna i principi del razzismo. Mi scusi, posso provare un attimo? Il principio di questo programma, questo reality, stabilisce una ideologia razzista. Cioè dice che le persone non sono tutte uguali. Ma è fondamentale. Allora, mi fate sentire, mi fate sentire. È esattamente quello che ha cercato di fare Hitler durante la seconda guerra mondiale, demonizzando gli ebrei. Ma non fate sto gioco di la Russia e Hitler. Andare a identificare quelli che sono dei nemici fondamentali. Ma non è che puoi parlare solo te, ci sono altre esperienze e opinioni. E cosa succede? Si va ad demonizzare la ignoranza. Intanto trovo che la tesi di Adinolfi fosse estremamente suggestiva. È un po' meno stereotipata delle solite cose su Hitler e altre robe assortite che, insomma, hanno un po' scocciato perché sentiamo tutti i giorni. Eh, sapesse quanto ha scocciato sentire altre cose. Sapesse quanto... Magari sente le mie e scoccia dopo che le ha sentite. Facciamo così. Eh sì. Informo la Bora Levi che grazie al cielo le persone non sono tutte uguali. Io non credo che lei vorrebbe essere uguale a me. A lei? Le lo auguro. È benissimo. Quindi appena ha dimostrato che le persone, grazie al cielo, non sono tutte uguali. Però siamo due persone umane. Mi perdoni, ma certo, ma non è dubito. Sto parlando di lei come carattere. Non è dubito. Noi siamo persone. Non è dubito. Io, lei, Adinolfi. Non è dubito. Siamo persone. Abbiamo l'anima e siamo persone. Mi faccia concludere. Beh, ci sarebbero anche persone che pensano che l'anima non esista. Dopodiché, se c'è qualcuno che categorizza, inscrive dentro le caselle e divide in questa maniera etero, cisgender, transgender, non binari, è l'ideologia LGBT, che è diversa, a mio parere, dalle persone omosessuali che hanno tutto il diritto di fare quello che gli pare. No, esiste. Il punto è che qui noi stiamo parlando di un tema che ci riguarda perché il signore qui davanti a me ha detto che lui lo vorrebbe portare in Italia, questo reality. Allora, teniamo presente che reality sui comportamenti delle persone ha un'influenza enorme e soprattutto sulle persone che in maggioranza guardano i reality perché non so quanti di noi qui effettivamente magari guardano proprio tutti i reality. Allora, io dico che noi dobbiamo dire forte e chiaro che l'utero in affitto non c'entra niente, che se vogliamo il proselitismo di certa parte minima, di certe comunità transgender, non c'entra niente, sono cose che bisognerà esaminare e agire effettivamente in un'altra sede, però io dico che noi dobbiamo dire forte e chiaro che siamo tutti persone che non resistono. Per cui, io davvero sono un po' sorpreso da come state reagendo in modo così drammatico nei confronti di questo show. Scusi Vladimir, lei è d'accordo sulla legge del suo paese che perseguita i gay? Lei lo sa che vengono perseguita i gay? Non è vero, non fate di queste cose, la Russia non perseguita i gay, non è vero. Ma per se lei non va a vivere in Russia? Secondo solo, arrivo da te, volevo sentire... State citti! E lo sa, perché questa è la cosa... Vladimir, prego. E poi Mario Di Nolfi. Prego. Contri gay, non abbiamo nulla contro il contro di vista istituzionale. Forse l'unica differenza è che noi non andiamo in giro nudi per strada, l'attitudine rispetto a questo argomento diverso. Mario Di Nolfi. Io credo che noi possiamo provare a introdurre in Italia una modalità di discussione diversa attorno al tema della sessualità, anche prendendo esempio e spunto dalla capacità di mettere in grottesco la dualità finta che c'è tra etero e gay. Secondo me è uno schema narrativo che può essere efficace. Mi perdoni, non la sessualità, la sentimentalità è diversa. È una solita lagna secondo cui esistono i buoni, che sono loro, che hanno diritto di dire che gli altri fanno schifo, che hanno diritto di dire... Nessuno dice questo. Adesso parlo io. I cattolici possono dire ancora in questo paese, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica, che l'atto omosessuale è un atto disordinato? Lo possono dire? Perché lei lo lega al sesso. Mi spiace, ma non è così. Non si può dire. Perché lei lo lega al sesso. Perché lei dice questo, lei che dice, Adinolfi fa schifo, quell'altro che dice, sei russo, vai a vivere in Russia. Qua non parliamo di sesso, parliamo di sentimenti. È una cosa diversa. C'è una violenza di una minoranza pesantissima che vuole incorre le leggi. E quando democraticamente queste leggi vengono battute dal Parlamento, dicono che non è giusto che la democrazia funzioni così, perché deve funzionare solo secondo la direzione che dicono loro. Quando viene bocciato il DDL-Zan, che brutti hanno applaudito in Senato, che orrore hanno applaudito, quando in ogni legge dello Stato c'è lo stesso identico applauso, quando si vince una battaglia parlamentare. Allora io dico, e forse il messaggio russo di disinnescarci un po', persino di toccarci, guarda come ci si toccano quelli ciccioni obesi come me, con i bei ragazzi tutti nudi che vanno lì. Forse questa cosa grottesca funziona. Quando noi volevamo capire la cultura orientale, questa rete, anzi forse questa azienda, faceva vedere mai dire banzai. Erano cose terribili che venivano fatte ai poveri giapponesi con la Jalappas che le commentava. E sorridevamo, ridevamo, era divertentissimo. E forse quando adesso abbiamo visto dei incredibili seri giapponesi o coreani, abbiamo capito quale cultura c'è dietro. Forse fare questo tipo di ragionamento è più utile che stare sempre in uno studio televisivo a dire Adinolfi è omofobo, Adinolfi fa schifo, Adinolfi non deve parlare. E quello lì che dice, da cattolico, che esiste nel catechismo della Casa Cattolica, sì esiste, il concetto di peccato, è questo concetto... Il catechismo è una catechismo. Ah, il catechismo, no, ho capito. Questa roba ha un suo senso per milioni di italiani che vanno rispettati, almeno quanto la minoranza LGBT che ci manganella sui social e in televisione in tutte le occasioni. Prego. Io uscirei un attimo da questo concetto di peccato, Chiesa Cattolica, perché anche la Chiesa Cattolica ritiene il peccato qualunque atto sessuale che ha di fuori dal matrimonio. Io immagino che lei l'abbia fatto fuori dal matrimonio, quindi anche lei è un peccatore. Siamo tutti peccatori, grazie. Siamo che aveva partito sempre così. Detto questo, poi... Argomento a dominem, perché non sapete fare un ragionamento. Il problema è quello. Giustamente Adinolfi cerca sempre di tirare l'acqua al suo, non parlando di sessualità. Vi vedo tutti esperti in teologia. La cosa, devo dire, mi fa un certo piacere. No, no, io ho solo detto una cosa che è assolutamente banalissima. Ma ecco, non sono sceso nei dettagli delle vite. No, no, ma meglio. Detto questo, ripeto, qua stiamo parlando della vita di persone, stiamo parlando della vita di persone che hanno dei sentimenti e quindi non è un atto sessuale. Ma non solo voi avete sentimenti! Non solo voi! Ma voi quello che volete cercare di far passare è che è un peccato ed è sbagliato provare gli stessi sentimenti nei confronti di un'altra persona. Lo fate attraverso il veicolo della sessualità che è strumentale. Bene, ci arriverete fino a un certo punto. Poi arriva uno come me che ha un minimo di cervello e vi dice abbiate pazienza, qua stiamo parlando di sentimenti, stiamo parlando di persone che si vogliono bene e voi non avete nessun diritto di mettervi nella condizione di dire io sono meglio di te e io devo avere più diritti di te. Perché guardi, non c'è niente di più banale. Un diritto a poter parlare anche della propria fede. Io dico una cosa molto semplice da una vita. Siamo tutti cittadini, in articolo della Costituzione siamo tutti uguali. Voi volete avere dei privilegi in più. Benissimo, allora vuol dire che pagherete più tasse di noi. Se noi abbiamo accesso a meno diritti e la definiscono come società naturale fondata sul matrimonio, l'articolo 29, il matrimonio in Italia è tra un uomo e una donna. Guardi, io sono un avvocato quindi non si metta sulla legge. Il matrimonio, signor avvocato, dell'ordinamento giuridico italiano è tra un uomo e una donna. Certo, ma la Costituzione non parla di uomo e donna. Ho finito il tempo. La Costituzione parla di matrimonio, unione. Allora, ho finito il tempo e devo dare una cosa molto... Parla di matrimonio, lei ha parlato sul matrimonio. Andate a votare, grazie molto di averci seguito, grazie agli ospiti. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buonanotte a tutti.